Se vuoi vincere, devi prevedere. Devi anticipare le mosse del tuo avversario. Ora è una tua nemica. E trovare le contromisure. Mi dite come l'ha potuto fare! Sei oltre ogni limite, Elisabeth. Mi hanno assunta per vincere e userò qualsiasi risorsa a disposizione. Sei davvero pronta per questo? Siamo più di 5 milioni e siamo armati. Avviate subito un'indagine. Ti sbatteranno in galera per oltraggio alla corte. In questo gioco devi essere un passo avanti al tuo nemico. Colpiamola sul privato. Conosci la parola annichilire? Vuol dire annientare. Questo è più importante della mia carriera. È sbalorditivo. Hai passato il segno. Ingegnoso. Microspie. Assolutamente incredibile. Devi essere certa che li sorprenderai. E che loro non sorprenderanno te. Tutti un'antimBuico. Tutti un'antimBu Title. S suspicious. Grazie.